Il fatto che le cose cambiano può essere positivo, perché se tu stavi con uno stronzo narcisista e le cose non potevano cambiare, lo stronzo narcisista dovevi tenertelo a vita. Invece il fatto che le cose cambiano ti fa capire che oggi stai con uno stronzo narcisista e domani potrai stare con uno che non è narcisista. E il fatto che le cose cambiano non vuol dire che cambiano sempre in peggio, possono cambiare meglio.